ecco qui a voi il primo carico di capodanno partiamo subito con due razzetti della borgo nuovo atlas con grammatura 3,5 grammi al pezzo 3,5 pasticelle fanno un po' cagare questi sono i primi due razzetti dell'anno sono quelli che apriranno il capodanno poi passiamo con il little cobra 2 con grammatura 0,30 leggete 0,30 e sono 30 pezzi se non sbaglio domani andremo a provare e vi porto il video 30 pezzi rosa veramente belli poi passiamo al pezzo forte di quest'anno comunque questo qua il primo ma non l'ultimo ci saranno altri due i black cobra da un grammo e mezzo l'uno d'uso vabbè le soluzioni d'uso non vi interessano CE marca CE tappino in tappino non è in plastica non cambiate sfregamentà comunque qua c'è una nuova cosa guardate tappino in plastica sotto questo non è un uomo aperto di polvere qua sopra è così vabbè questi qua sono un grammo e mezzo sono 50 pezzi e se riesco a farveli vedere sempre sempre di blasio eglio questi 50 pezzi domani li proverò anche questi mi hanno consigliato il negoziante dicendo che sono come un po' gli zeus poi abbiamo le accensioni abbiamo due clipper 1, 2 e 2 minerve questo qui è il primo carico di capodanno ci si vede al prossimo carico bella ciao